la cosa un attimo ecco ecco vediamo se così si funziona un po meglio adesso vedete il mio schermo non ancora dice che ha avviato la condivisione si lo abbiamo lo vediamo adesso si vede ok allora sì però vedo che estremamente lento bene e allora magari quello che stavo pensando magari di queste cose poi con calma farò dei video senza su senza collegamento eccetera che illustrino meglio queste cose in modo più chiaro dal punto di vista visivo va bene allora su questo cioè su come si potrebbe utilizzare c'è qualche dubbio qualche idea no ecco world non ha voluto lavorare oggi dunque io volevo chiedere una cosa nonostante la mia avversione però le ho fatta una nota e però ho fatto un po diverso siccome io con il mio direttore di tesi abbiamo già fatto così uno schema generale insomma di un abbozzo di schema della tesi e allora mi sono un po riferita a quello allora volevo sapere se poteva andare bene se era giusto farlo in quel modo adesso io non so se riesco a condividere la scheda che per esempio ho fatto se vuoi condividere sei autorizzata cosa devo fare cosa devo fare bottone dentro zoom i bottoni sotto quello che in televisione chiamano sottopancia cioè condividi schermo e poi prendere il primo a sinistra prima ma sinistra si apre una serie di riquadri e la cosa migliore aprire il primo a sinistra per condividere tutto il tutto il tutto lo schermo forse dovrebbe questo si sta ok perfetto sì e volevo sapere a cosa era giusto perché io per esempio siccome ho fatto uno schema io ho messo sopra almeno così come mi veniva da one il titolo cioè il testo da dove l'ho preso e poi siccome riguardava la seconda parte l'analisi storica delle fonti ho messo diciamo fatto un sunto di quello che lui diceva su san cipriano e l'ho messo ci ho provato a fare una scheda così sì l'unica cosa va bene in parte ma non vedo non vedo il tema questo significa che ecco poi adesso va bene sono quattro schede quando avrei 400 e 400 vedrai nell'elenco a sinistra vedrai di cui eccetera eccetera quello che dice poco per identificare una scheda per cui se invece metti il tema con maiuscole belle forti allora vedi subito di che cosa si tratta per identificare subito il contenuto di quella scheda e poi è dunque la prima riga dove che l'autore io metterei il tema maiuscolo è quello parte seconda analisi storica delle fonti sì in realtà non è necessario mettere io basta mettere due 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 b perché io nello schermo schema so so che cosa è non c'è bisogno di scrivere analisi delle fonti ah va bene ecco quindi praticamente questo io lo metto prima e poi il testo lo metto sotto esatto io metterei nella prima riga che diventa poi il titolo qui al posto di sbue io metterei il tema e nella stessa riga sotto tema poi sotto la fonte e poi sotto il contenuto va bene perfetto grazie benissimo bene allora sì questo è più o meno quanto si può fare con queste schede ecco direi adesso di abbiamo 10 minuti vorrei introdurre un altro tema per così dire dato che stiamo parlando dei temi che è quello della redazione vado anch'io a condividere ecco perché nel nostro percorso a un certo punto dovremo andare a scrivere e allora il passaggio è la stesura del testo innanzitutto dico rapidamente alcuni strumenti per la automatizzazione di questo processo di scrittura allora probabilmente quasi tutti voi utilizzerete word ma la stessa cosa vale se usate un altro programma simile un processore di testo simile allora la prima cosa che vi voglio commentare che tante volte uno magari non sa come si fa una determinata cosa e a volte non ci viene nemmeno in mente come fare ad imparare a farla io consiglio sempre di andare su youtube su internet in generale ma specificamente su youtube vai su youtube e cerchi per esempio indice automatico word e troverai una serie di video in varie lingue dove qualcuno meglio o peggio ti spiega come si fa e dunque non fermatevi dire va bene intanto lo faccio a mano no no aspetta non sarà possibile fare oggi nel 2021 con co vide tutto non sarà possibile fare automaticamente gli indici sì è possibile e vale veramente la pena però non lo so fare youtube o google vai a cercare in word per esempio alcune cose che possiamo automatizzare e che tante persone non sanno quella più elementare e più elementare è le note aperi pagina in modo automatico questo si lo sapevate vero lo dico perché ho trovato persone che poi consegnano il testo e hanno fatto parentesi 1 parentesi chiusa e poi giù scrivono a mano col computer parentesi 1 e metto una nota e poi cioè come facevamo noi con la macchina da battere beh siamo un'altra epoca allora con word io posso andare tranquillamente a dire nuova nota e lui me la crea e numero automaticamente se cambia una nota lui le rinumera eccetera eccetera allora le note per i pagine vanno fatte con il modo automatico ma anche lo schema e la formattazione automatica del testo concretamente capitolo paragrafo sotto paragrafo eccetera si può automatizzare in word con quello che viene chiamato tecnicamente stile ci sono una serie di stili già esistenti e noi possiamo crearli o modificarli in modo che quale la l'utilità dello stile questi sono stili stiamo parlando di stili diversi da quelli della gestione della bibliografia ma il concetto simile se io applico un neretto a mano voglio dire a mano col computer in un paragrafo capitolo 1 poi paragrafo 1 e lo evidenzio lo seleziono e poi metto neretto l'ho messo io a mano se poi decido che non è in eretto ma corsivo dovrei fare questa operazione per tutti i paragrafi se anziché fare così io applico uno stile e nello stile applico paragrafo e lui mette neretto poi un giorno poi un giorno dico o mi dice il docente o la cassa editrice nella quale voglio pubblicare no a me serve il titolo del paragrafo in corsivo allora basta che io cambio lo stile dico corsivo e lui mi modifica tutti i paragrafi i titoli i paragrafi dove io ho applicato quello stile cioè non applico il neretto corsivo sottolineato manualmente ma applico uno stile cambiando lo stile lui mi raggiusta tutto pertanto è molto conveniente non solo ma nello stile scusate concretamente dentro word possono essere assegnate anche gli elementi dello schema e dunque se applico quello stile poi vedremo lui mi metterà uno se poi lo cambio e lo porto più indietro automaticamente lo rinumererà e metterà due o tre e cambierà gli altri la numerazione che poi mi darà l'indice dentro word l'indice della della tesi si fa automaticamente applicando gli stili poi magari lo vediamo più nella pratica dunque dicevamo del indice automatico se io applico lo stile automaticamente mi genera l'indice e anche qui se decido di tutta questa parte portarla all'inizio non importa lui rigenera l'indice e mi colloca tutte le cose a posto secondo la nuova collocazione delle cose nel testo e volevo anche farvi sapere non so se lo sapevate che la l'ateneo l'ufficio pubblicazione dell'ateneo ha creato una serie di modelli preconfigurati per i vari tipi di lavori scritti che realizziamo in ateneo andiamo a vedere se sono rapido a trovarlo ecco se vado sul sito supra vediamo se adesso tutto funziona un pochino più agilmente almeno recentemente ok entriamo state vedendo la pagina dell'ateneo vero ok e qui vediamo un po se mi ricordo dove era credo pubblicazioni ecco sì vedete io ho posizionato il cursore su pubblicazioni e mi offre modelli per le pubblicazioni lo vedete qua ok clicco su modelli per le pubblicazioni e mi presenta un elenco di file fatto dall'ufficio pubblicazioni per i vari tipi di testi che gli studenti devono consegnare dall'elaborato del primo ciclo disertazione della licenza terzo ciclo disertazione dottorale prima consegna in segreteria di facoltà e un altro per la pubblicazione ma in realtà non è che devo cambiare il mio testo per adattarlo alla pubblicazione basta che usi quello per cui io vi consiglio consiglio di fare subito così di scaricare questo documento qua che è un file word vado a scaricarlo vediamo se non ci mette un secolo lo copio lo salvo nel mio disco lo apro vediamo se word adesso vuol fare lavorare un pochettino e vediamo cosa contiene contiene un documento dove sono stati applicati degli stili è stato applicato uno stile per le diverse parti il titolo del capitolo il titolo del paragrafo principale il titolo del sottoparagrafo eccetera e anche le note a piedi pagina e tutto quanto con una formattazione che io semplicemente posso utilizzare addirittura hanno fatto anche il frontespizio tale quale viene richiesto nell'ateneo per cui io ateneo pontificio lo lascio perché va bene così ma il titolo lo cambio e mettono metto eutanasia eccetera eccetera il mio titolo poi metto i miei dati qua al posto di questi qua e so che è stato formatato correttamente abbreviazioni logicamente metto se le uso l'abbreviazione che io voglio inserire all'inizio del mio testo hanno inserito già tutta una serie dell'abbreviazioni classiche soprattutto in ambito teologico poi ecco teolo e introduzione vedete che qui se io clicco qua vedete che è formattato applicando questo stile qua che si chiama heading o intestazione intestazione 1 intestazione 2 intestazione 3 supponiamo e dunque se voi semplicemente utilizzate questo modello e ci scrivete sopra per così dire dove dice introduzione magari lasciate introduzione se volete o introduction se state scrivendo in inglese dove dice testo principale logicamente cominciate a scrivere il vostro testo la formatazione è già pronta non solo è pronta la formatazione ma è pronto anche l'indice automatico e allora se vedete il concetto dei degli stili di cui parlavo vedete qui l'ha messo in 20 punti grandezza del carattere 20 punti in eretto e times roman se io clicco su heading to vedete cosa fa l'ha spostato a sinistra ha cambiato la grandezza eccetera perché lo stile fatto così se io volessi quello ma volessi quello in blu posso entrare nello stile dire colore blu e tutti i titoli che io nei quali ho applicato quello stile vengono automaticamente cambiati allora basta che io mi trovo su quello adesso riapplico heading one ed è fatto poi qui utilizzo per scrivere il testo logicamente e poi di nuovo capitolo 1 che ha lo stesso heading one perché il titolo del capitolo poi cioè il numero del capitolo capitolo 1 capitolo 2 poi il titolo ci metto il mio poi testo e qui hanno messo anche alcune note a piedi pagina per indicare come devono essere inserite le note a piedi pagina basta applicare zotero e fa esattamente la stessa cosa poi vedete che ha messo anche titolo livello 1 che è invece heading to non heading one se io clicco su heading one me lo mette come se fosse il titolo del capitolo dicono heading to paragrafo e così via e vedete che anche ne parleremo la prossima volta quando io ci faccio una citazione letterale più o meno lunga più di due tre righe lo metto in questo modo altrimenti se è breve metto tra virgolette dentro il mio testo come dice questo autore due punti virgolette e una riga o due se sono più righe allora si cita in questo modo e questo lo fa il lo stesso stile vedete che qui ha applicato uno stile che si chiama quote citazione se io applico questo stile lì dove dice stile normale e applico quote che cosa mi fa mi fa esattamente quello me lo formatta in quel modo con un rientro a sinistra un interlinea più piccolo caratteri più piccolo eccetera adesso adesso vado a mettere il nuovo normale il testo normale ha già la distanza tra le righe stabilite dell'ateneo eccetera 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 e livello 2 è un heading 3 che mette corsivo è così e poi alla fine va bene logicamente io posso utilizzare questo e poi scrivo sopra topo le cose che non mi servono conclusione di nuovo distruttito principale bibliografia sempre con heading one livello capitolo e mi riporta la bibliografia anche questo l'abbiamo visto lo fa sottero automaticamente e finalmente l'indice e l'indice è automatico lo genera perché qui hanno inserito già il codice per la generazione dell'indice come sa word che io voglio introduzione eccetera perché applicando quello stile heading one heading two heading three contiene già il codice col quale poi genera l'indice se voi utilizzate questo questo modello già fatto ci scrivete sopra non dovete preoccuparvi ma almeno vi può servire per vedere come fare per esempio come fa che che tipo di stile uti devo usare o conviene che usi per il titolo dei capitoli come bibliografia eccetera lo vedo qua heading one poi lo posso modificare ma normalmente non ho bisogno di modificare e adesso mi genera questo se io per esempio qui dove dice mettiamo capitolo 1 metto un titolo un titolo mio concetto termini poi vado giù probabilmente devo rigenerare l'indice e non mi ricordo nemmeno come si faceva comunque mi genera automaticamente l'indice con con quella dove sta forse qua si bottone destro update è un po se vero dico aggiorna tutto e vedete ecco il mio bel indice dove c'è scritto concetto termini dunque è molto importante utilizzare questi strumenti di automatici automatizzazione di cui abbiamo parlato e finiamo con questo cioè le note apri pagina automaticamente l'applicazione degli stili e l'indice automatico e applicando quel tipo di stile che loro hanno inserito in quel documento le due cose si fanno con un solo colpo e cioè lo stile porta dentro già il codice per la generazione dell'indice va bene e l'ultimissima cosa a proposito di strumenti che non so se conoscete è lo strumento di word che si chiama review che è molto utile per un altro scopo cioè spesso facciamo così i docenti almeno parecchi di noi tu mi mandi tu studente dottorando io sono il direttore mi mandi un testo per la revisione il capitolo 1 io lo vedo e magari già che ci sono faccio delle annotazioni o cambio qualche cosa o metto dei commenti ma se io docente attivo il sistema revisione ti rimando il testo e tu vedi esattamente quello che io ho commentato ho cambiato tolto ho aggiunto ho cambiato io che cosa faccio io docente prima di rivedere il tuo testo qui sopra dico review e ho revisione in italiano poi dico traccia i cambiamenti lo metto in on per cui a partire da questo momento qualunque cambiamento che io farò me lo evidenziarà lo evidenzia in questo modo adesso vedete che ha messo una riga verticale per dire attenzione qui c'è qualche cosa e se io aggiungo qualche cosa lo mette così se tolgo qualche cosa mi dice gonzalo ha cancellato gonzalo miranda ha cancellato una u cioè evidenzia ciò che io docente aggiungo cambio tolgo ma posso anche mettere dei commenti anziché toccare il testo metto un commento che compaiono i commenti anche qui a destra e allora io vi mando questo testo e voi che dovete fare semplicemente venire qua a vedere che sia attivo il review per cui voi vedete il testo così non solo ma voi volendo potete utilizzare questo strumento che c'è qui che dice accetta rigetta per cui io dico vai a trovare mi trovo all'inizio proprio cerca il primo cambiamento in questo caso cambiamento fatto o commento fatto dal docente e mi porta lì si posiziona in quella riga e mi mi fa vedere quello e io posso semplicemente dire ah sì ha ragione sì è meglio pronunciarlo eutanaxia e allora dico accetta clicco sul bottone accetta e lui che cosa fa ha tolto quella formatazione speciale e diventa parte del testo perché l'ho accettato se invece rigetto faccio adesso vado un pochettino indietro ecco faccio così dico vai a cercare il primo cambiamento si posiziona lì dico no 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 qui ha sbagliato docente preferisco lasciare come aveva scritto io dico reject e lui lo lascia come l'avevo scritto io e in questo modo io tu mi mandi alla fine 400 pagine magari non speriamo di no ma mi mandi 250 pagine e io faccio modifiche eccetera magari faccio un annotazione a pagina 5 altra pagina 55 tu non devi scorrere tutto il testo per vedere dove ho messo io le mani tu vai next 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 e ti fa vedere solo i punti dove io ho aggiunto un commento ho cambiato una lettera eccetera purtroppo a volte cambi una virgola lui la mette però tante volte quella virgola può essere comunque importante allora in questo modo l'interazione tra il dottorando e il docente molto più agile stessa cosa se io docente ti chiedo di fare i cambiamenti tu tracci i cambiamenti fatti mi rimandi il testo e io vado a vedere esattamente dove tu hai cambiato delle cose va bene allora siccome logicamente con queste piccole osservazioni non possiamo imparare a farlo ripeto youtube stili youtube indice automatico youtube cioè word indice automatico youtube review o revisione e troverete dei video dove vi spiegano come si utilizza bene lo strumento specifico che state cercando va bene ok e allora prego qualche domanda si sia un po fuori tema prego rapida rapida il testo almeno io devo produrre il testo l'articolo scientifico ne parlerà ci sono delle indicazioni si parleremo parleremo dopo perché poi dopo tutto questo percorso che il percorso per la lavorare la tesi parleremo del cosiddetto percorso formale dove non è solo formale ma vedremo le cose da fare nel liter tra cui l'articolo scientifico come elaborarlo come consegnarlo eccetera la il testo del progetto del programma di ricerca il progetto di disertazione eccetera si lo vedremo dovrà essere la prossima volta grazie la prossima volta vedremo qualche cosa alcune cose alcuni consigli sulla redazione su come scrivere e redigere a che cosa prestare più attenzione e poi questo percorso formale e se abbiamo tempo vorrei dire anche qualche cosa sulla difesa della tesi qualche consiglio utile molto pratico anche sull'atteggiamento umile e allo stesso tempo sicuro da adottare nella difesa eccetera eccetera va bene non presuntuoso esatto non conviene ma non timido ama io non lo so perché non sono preparato eccetera eccetera fermi e delicati esatto benissimo allora c'è qualche altra domanda osservazione si prego come io scrivo e scriverò in francese c'è un problema con il format delle pagine soprattutto per le virgolette la proteggiatura e lo spazio non sono le stesse in italiano in questo caso come devo fare devi fare come si fa nella lingua in cui scrivi ok in francese se questo è importantissimo qui l'hanno fatto l'italiano in francese si mettono in biglum in in tedesco i tedeschi che sono un po strano no no non c'è nessun tedesco qua mettono le virgole aprono con virgole basse e poi in alto non so perché ma a loro piace così allora se tu scrivi in tedesco devi fare così in realtà questo modello serve soprattutto per vedere come si possono fare le cose applicando quegli stili potete utilizzarlo avete il modello contiene dentro gli stili per così dire il documento word si porta dentro gli stili allora voi potreste anche cancellare tutto e poi applicare dove c'è il titolo heading one o come si chiamerà in italiano dove c'è il sottotitolo heading two eccetera eccetera oppure se volete utilizzate questo una specie di canovaccio una struttura e dove dice testo principale scrive non consegnate la testa si la testa sarebbe consegnare proprio la testa la tesi di centro con la mia tesi c'è testo principale testo principale testo principale e dice così mi hanno detto che bisognava fare va bene ok qualche altra domanda no e allora alla prossima che sarà il 20 il 20 benissimo allora il 20 ci rivediamo grazie padre e nel frattempo lavorate fate scrivere grazie 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 alla prossima domenica a tutti